La mostra mercato Italia del Bio, comparto innovativo e in crescita nella produzione agroalimentare, è stata presentata a Palazzo Lascaris. Tra i temi trattati in altrettanti convegni, come nasce un biodistretto, la filiera corta e il biologico nella ristorazione collettiva, sagre e feste per la promozione dei prodotti del territorio.